Buonanotte, qui è Radio Raptus e io sono Benassi, Ivan. Forse lì c'è qualcuno che non dorme, beh, comunque che ci siate oppure no, io c'ho una cosa da dire. Oggi ho avuto una discussione con un mio amico, lui è uno di quelli bravi, bravi a credere in quello in cui gli dicono di credere. Gli dice che se uno non crede in certe cose, beh, non crede in niente. Non è vero. Anch'io credo. Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei rift di Kate Richards. Credo al doppio suono del campanello del perdono in casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che ognuno di noi si meriterebbe di avere una madre e un padre che siano decenti con lui almeno finché non si sta in piedi. Credo che un Inter come quella di Corso Mazzola e Suarez non ci sarà mai più, ma non è detto che non ce ne saranno altre belle in maniera diversa. Credo che non sia tutto qua, però prima di credere in qualcos'altro bisogna fare i conti con quello che c'è qua, e allora mi sa che crederò prima o poi in qualche dio. Credo che semmai avrò una famiglia, sarà dura tirare avanti con 300.000 lire al mese. Però credo anche che se non me lo recherò i culi come fa il mio caporeparto, beh, difficilmente cambieranno le cose. Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock'n'roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro e le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono. Credo che la voglia di scappare da un paese con 20.000 abitanti vuol dire che voglia di scappare da te stesso, e credo che da te non ci scappi neanche se sei Eddie Merckx. Credo che non è giusto giudicare la vita degli altri, perché comunque non puoi sapere proprio un cazzo della vita degli altri. Credo che per credere, in certi momenti, ti serve molta energia. Ecco, allora vedete un po' di ricaricare le vostre scorte con questo.